carissimissimi amiche carissimissimi amici buongiorno buongiorno al vostro giocherellone ragazze e ragazzi il giocherellone colui che come al solito ogni giorno ogni mattina vi porta video spettacolari mattina pomeriggio sera sempre video spettacolari non siete iscritti su youtube non siete iscritti su twitch non state nel blog non state su telegram state sul discord venite 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 ma venite anche su tik tok ragazzi detto questo oggi analizziamo il tema natale di un mio carissimo amico itril itril il nativo zodiacale dello scorpione avete capito bene il grande studente il grande studente universitario che adesso ovviamente andrà analizzato secondo la pseudoscienza pseudoscienza perché l'astrologia è una pseudoscienza cioè a metodologia di ricerca di approfondimento legata alla scienza ma non è verificata col metodo scientifico sperimentale quindi quello là di galileliana memoria ovviamente voi avete visto i miei tanti video sull'astrologia no canale youtube giocherellone e ovviamente video di astrologia non sapete dove andare links in box informazioni andate sul canale giocherellone dove potete trovare tutti questi bei regaloni andiamo a vedere ragazzi il tema natale di itril vi faccio vedere ovviamente il cerchio della gara diviso ogni in 12 segni ogni segno divisi in 30 gradi quindi abbiamo ovviamente i nostri fantastici incredibili 360 gradi di astrologia ovviamente con i loro ovviamente ma diciamo disposizione in questo caso dei pianeti che transitano nei segni allora 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 andiamo andiamo quindi a vedere un pochettino dal punto di vista geometrico che cosa abbiamo e ancor di più andiamo a vederlo nella ovviamente in questo bello lo schermetto in questo bello schermetto che potete vedere voi tutti insieme a me allora il nostro caro itri il nostro caro itril che cos'è che cos'è che cos'è è uno scorpione uno scorpione uno scorpione che in questo caso in questo caso per prima cosa facciamo vedere a itril anche un'altra bella cosa gli voglio consigliare al caro itril pensate un pochettino un video mio di astrologia di stampo tolomeicana ecco qua vediamo un pochettino con le 48 costellazioni identificate da claudio tolomeo ovviamente voi sapete che le costellazioni sono una proiezione bidimensionale delle stelle che noi vediamo da lontano dove possiamo vedere addirittura come potete vedere il significato delle decadi di nascita pensate un pochettino quindi gli andiamo a far vedere proprio la parte dello scorpione che è uno scorpione praticamente della seconda decada infatti pianeta collocato sole perfetto infatti avremo ovviamente un medio cielo qui in pesci e in pianeta collocato qui mi dice ovviamente scorpione 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 vabbè quindi forse questa cosa è meglio che noi gliela facciamo vedere a itril perché con i calcoli mi trovo in un'altra maniera allora vediamo un pochettino vediamo un pochettino allora itril è praticamente uno scopa uno scorpione e quindi lo scorpione voi sapete il segno del mistero il segno della passione mentale il segno della forza mentale di questa forza forse forte psichica e addirittura della violenza violenza sempre mentale la tendenza a litigare le tendenze a rompere i rapporti a voler rompere pensate un pochettino i rapporti quindi veramente il ve lo dico praticamente lo scorpione è fatto così molto molto vendicativo l'ascendente di itril però è capricorno che cosa vuol dire questo che il segno zodiacale che un segno fisso si associa al capricorno che è un segno di terra di stampo ovviamente femminile quindi abbiamo qui un segno praticamente femminile che è appunto lo scorpione con un segno praticamente femminile che è appunto il capricorno questi due elementi però acqua dello scorpione lo scorpione un segno d'acqua e la terra del capricorno sono tra loro opposti quindi che cosa succede che si può avere un pochettino di conflitto interno lo scorpione però è il capricorno sono unite voi come ben sapete se avete visto anche i miei video sui tarocchi sono uniti simbolicamente da un comportamento simile il fatto di volersi affermare in lo scorpione da un punto di vista soprattutto della passione amorosa della passione sessuale e ovviamente anche in ambiti molto particolari ma anche anche ambiti pensate un pochettino legati alla chirurgia dove c'è praticamente l'utilizzo del sangue o l'elemento ovviamente ferroso questo ovviamente perché voi sapete che lo scorpione è anche governato dal pianeta marte il pianeta che presenta la maggior parte il cosiddetto pianeta rosso la maggior parte del suo ovviamente minerale maggiormente presente e il ferro che donna appunto il colore rosso a marte marte domina la rete dal punto di vista fisico e maschile mentre domina invece lo scorpione da un punto di vista femminile e notturno pensate un pochettino quindi è un pianeta e diciamo questi due segni sono accomunati ariete e scorpione dal questo pianeta marte hanno interesse ovviamente il marte dello scorpione e interessa soprattutto l'ascendente perché quasi sempre diciamo il tema praticamente al di là diciamo degli altri transiti forte forte componente del tema natale ovviamente dato da segno ascendente e tendenzialmente la decade di nascita allora la decade di nascita è legata appunto al medio cielo quindi scorpione e scorpione fanno effettivamente molto 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 diciamo una forza una fortissima sintonia una voglia ovviamente di trasgredire una voglia di affermarsi di rivestire ruolo potente soprattutto di gestire le persone con la mente pensando un pochettino la capacità di cadere e realzarsi cadere e realzarsi soprattutto però in ambito lavorativo quindi questa voglia di addirittura scorpione a rete in capricorno in questo caso di arrivare praticamente tra i massimi vette del lavoro distruggendo i nemici dal punto di vista mentale tutti coloro che si mettono praticamente sul piano sul di fronte alla strada di trili non sono d'accordo con lui o vengono gestiti da lui attraverso lo scorpione vengono scava scavalca direttamente non scavalcati ma addirittura calpestati perché c'è questa parte sadica dello scorpione legata pensate un pochettino alla voglia di affermarsi del capricorno quindi sicuramente una forte una fortissima una fortissima unione nell'ambito soprattutto lavorativo quindi grandi aspirazioni lavorative vi ricordo del capricorno poi oltretutto un segno sì cardinale nel segno geometricamente più alto nel nostro diaco nonché più freddo lo scorpione un segno sadico quindi potete immaginare che cosa ne può uscire però questo può portare a un lieve conflitto interno conflitto interno perché lo scopo il capricorno in realtà non si fa problemi a scavalcare le persone quando le vede inferiori scarse non d'accordo con i suoi principi mentre lo scorpione ovviamente è che sia d'accordo non d'accordo con i suoi principi vuole sempre dominare un segno fisso e dominare col cervello abbiamo poi dopo una luna in ariete la luna in ariete indica un romanticismo d'impatto un romanticismo diciamo molto molto focoso dove i sentimenti sono vissuti istintivamente questo ovviamente è una cosa positiva con un segno sicuramente come lo scorpione come sapete ariete scorpione sono uniti dal pianeta marte pensate un pochettino tende a non essere ovviamente nativo molto dolce ma soprattutto a riversare fuoco e passione anche nel lato romantico quindi ovviamente il rapporto praticamente amoroso non è visto dal punto di vista del romanticismo è poco visto dal punto di vista romantico ma è molto visto praticamente è sentito anche sul piano passionale quindi anche forti gelosie forti ovviamente anche non solo forti gelosie ma anche ovviamente azioni purtroppo a volte anche fisiche violente il mercurio è di tipo saggetterino questo ovviamente porta praticamente il nativo a pensare lontano a pensare cosa si può fare in questo paese cosa si può fare in quest'altro paese quali sono le opportunità lavorative perché poi dopo dobbiamo vedere anche gli altri elementi praticamente astrologici e dire praticamente cosa si può fare in questo in questo luogo cosa si può fare in quest'altro luogo viaggiando che cosa posso conoscere dove posso arrivare dal punto di vista lavorativo quindi un'intelligenza che va molto molto avanti ecco qua però la problematica ovviamente questa intelligenza può portare a trovarsi in situazioni imposti dove ovviamente imposti che non si conoscono e a possibilità di litigare imposti che appunto non si conoscono quindi molta molta attenzione venere in scorpione la venere e mi ritorno scusate c'è la pubblicità quindi segno ascendente poi non disturbo segno il segno di itril è praticamente scorpione e il suo ascendente capricorno quindi denota ovviamente una voglia di affermarsi in ambiti intellettuali soprattutto nell'ambito lavorativo la luna è praticamente in ariete quindi vede il rapporto romantico il rapporto con i figli molto giocoso e sì 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 e questo è molto una persona molto passionale ma soprattutto legato voglioso di affermarsi appunto vista lavorativo attraverso lavori di tipo intellettuale dove ci sia una forte forte legame con la logica una forte legame con la biologia un forte legame con la medicina un carro armato sicuramente diciamo un carro armato un carro armato ma adesso andiamo anche a vedere perché il carro armato soprattutto sessuale perché qui c'è una venere in scorpione venere il pianeta ovviamente dell'amore passionale lo scorpione un segno sadico soprattutto in ambito intimo e quindi giustamente che cosa accade accade che sicuramente l'amore è vissuto con un ruolo di dominatore con un ruolo ovviamente di volerlo purtroppo fare del male anche per giocare devo dire la verità la propria parte non la propria parte non sappiamo se idri eterosessuale bisessuale omosessuale non lo sappiamo sicuramente e poi ovviamente di vivere i rapporti amorosi anche una fortissima gelosia ecco qua è una tendenza purtroppo al tradimento questo perché ovviamente venere che pianeta della passione per modo che con uno scopo e christian gray potrebbe essere potrebbe essere un christian gray questo mitico i thrill pensa un pochettino una tendenza anche a tradire perché uno scorpione una venere che transita in scorpione sicuramente denota una tendenza al tradimento tradimento soprattutto in ambito lavorativo pensa un pochettino quindi anche a trovarsi diciamo dei partner nell'ambito lavorativo con il quale tradire purtroppo anche il partner con cui ci sta quindi attenzione il marte e invece in vergine questo ovviamente fa in modo che le guerre praticamente marte il pianeta della guerra della della guerra istintiva della guerra violenta pensate un pochettino sarebbe il vecchio ares greco porta però a essere molto pacato a mantenersi praticamente a tenersi questo conflitto con le persone all'interno dell'ambiente domestico quindi a pensare nell'ambiente domestico mentre nell'ambito lavorativo si attua il suo piano di grande ovviamente arrivo dove oltretutto ci sono questi queste relazioni affettive ovviamente che si compiono non solo in ambito lavorativo ma soprattutto nei viaggi di lavoro quindi pensa un pochettino che personaggio che personaggio particolare il giove è legato ai pesci quindi grandi aspirazioni per grandi progetti forse anche utopici il sognare occhi aperti ma sulla lunga distanza arriverò a diventare realizzerò creerò ma in una maniera quasi da sognatore quasi utopico il saturno ovviamente pianeta della logica è legato alla rete questo ovviamente che cosa denota che sicuramente si ha poca tendenza a diciamo a ragionare sulla media e lunga distanza che cosa significa mi passa per l'idea di fare il pacchetto di fazzoletti realizzo il pacchetto di fazzoletti ecco devo risolvere questo problema due minuti ho trovato la soluzione quindi poca logica sul tempo medio lungo e ovviamente su questo ovviamente forse un pochettino pericoloso perché soprattutto nell'ambito lavorativo da una parte può essere sicuramente idonea questa cosa per affermarsi anche velocemente che perché chi prima arriva meglio alloggia da un'altra parte può portare ovviamente a dei problemi oltretutto con un segno zolecale dello scorpione e un ascendente capricorno può portare dei problemi lavorativi quindi attenzione così utilizzare una logica aspettare sempre dieci minuti soprattutto prima di parlare e ovviamente litigi nell'ambito lavorativo inutile che ci gira mitone ma non era difficile capirlo ovviamente la rete a segno anche della guerra perché si associa a marte o diurno quindi marte giornaliero urano il pianeta delle rivoluzioni legato all'acquario che cosa significa visto che quando una situazione ovviamente inizia a diventare brutta sia il vivi lascia vivere e ovviamente si va oltre non si pensa al passato si va avanti e soprattutto si va avanti con quelli che stanno dalla nostra parte perché l'acquario è il segno della collettività dell'amicizia pensate un pochettino delle grandi oltretutto idee quindi rivoluzioni che portano sempre a diciamo a nuove possibilità anche lavorative soprattutto perché ripeto un segno che mentalmente si vuole affermare a punto di vista lavorativo il nettuno e il pianeta ovviamente dei sogni legato in questo caso al capricorno quindi sogni sogni ovviamente molto molto diciamo fattibili ecco qua inutile studiare che amo ci vuole per dire i tarocchi non mi porteranno a niente dal punto di vista lavorativo studio quello che mi porta ovviamente carriera e denaro nonché essendo lo scorpione anche un potere psicologico mentale tendenzialmente carnale sulle altre persone quindi su questo è un bel tema natale devo dire la verità il plutone è il pianeta dei pensieri più nascosti e ritroviamo ovviamente questo sinergia tra la sagittà il mercurio e plutone che transitano come potete vedere in sagittario che cosa significa questo che ovviamente i pensieri più diciamo più insiti più nascosti della persona albergano nei viaggi viaggi di lavoro perché sagittario viaggi di lavoro non i viaggi di svago del gemelli quindi il fatto di potersi di volersi affermare di realizzare in paesi lontani luoghi lontani dal luogo d'origine pensate un pochettino e abbiamo ovviamente nodo nord chirono eccetera regionone non voglio ovviamente andare per le per le lunghe passiamo direttamente all'ascendente l'ascendente come vi ho detto è legato al capricorno quindi grandi aspirazioni ovviamente ad affermarsi anche in maniera sadica quindi scavalcando non scavalcando e calpestando tutti e a volte anche umiliando le altre persone con la propria mente la mente dello scorpione pensate pochettino in ambito lavorativo appunto del capricorno senza farsi sicuramente problemi il medio cielo è scorpione quindi questo che cosa va a fare va ad amplificare tutte le potenzialità dello scorpione nonché a cercare un partner simile a lui perché il medio cielo è anche la fratellanza elementare come o elementale come vi ho praticamente già spiegato quindi è ovviamente a trovarsi solo con i suoi simili scorpione scorpione quindi o magari anche con un ascendente capricorno in questo caso quindi a trovarsi solo con se stessi o con se stessi o con persone similissime a lui che abbiano sia le stesse ambizioni lavorative ma soprattutto lo stesso sadismo mentale quindi questo è praticamente il il tema natale di itril un bel tema natale una persona che secondo me sarebbe bene non far arrabbiare e mi dispiace dirlo per itril per itril nel senso che itril sicuramente avrà un successo nella vita dal punto di vista della lettura del tema natale ma sicuramente per chi lavora con itril io eviterei di lavorarci insieme perché purtroppo qui abbiamo un personaggio un tema natale legato a una persona che ha un ruolo di comandante nell'ambito lavorativo e che non guarda in faccia a nessuno quindi mi raccomando mi raccomando mi raccomando ragazzi va bene che dire un bel bel tema natale però sicuramente molto molto pericoloso ecco qua direi uno del kgb è certo uno del kgb ma soprattutto pensa legato a quelle discipline soprattutto intellettuali intellettuali che però portino porti non intellettuali legati per esempio alla filosofia alla sociologia alla psicologia che sono è difficile arrivare ai vertici della società ma proprio per esempio legato alle nuove tecnologie ecco qua quindi pensa un pochettino comunque un bel tema natale devo dire la verità va bene ragazzi che dirvi io ringrazio ovviamente il caro itril per avermi fornito i suoi dati e lo saluto saluto emilitor che mi ha fatto compagnia e per il resto ovviamente se non siete iscritti al canale giocherinone iscrivetevi fate iscrivere abbonatevi mettete mi piace condividete i video ma soprattutto ragazzi potete abbonarvi e donare nonché ci sono gli altri social network inbox informazioni principali sono youtube e twitch poi ci sono anche tic toc discord telegram ma ce ne sono tanti tanti altri andate nel box informazioni vedete vi saluto tutti e soprattutto saluto il buon itril ciao dal vostro giocherillone